ragazzi buongiorno la cupra formentoro vuole fare vuole oltrepassare alle mg ne stanno arrivando a gogo giovedì arriva anche un'altra 190 cavalli questa invece è la 150 dsg giusto ti posso riprendere eccolo qua grazie per averci scelto per avermi chiamato raccontami come tutti gli altri non cambia assolutamente c'è un po di lag nell'acceleratore va su tanto di giri non cambia marcia la tira molto manca qualcosa in accelerazione come tutti gli altri che avrei visto nei video quindi quello che vedrà il cliente o il futuro cliente su youtube caso dici cavolo la mia macchina uguale dice le stesse termine proprio anche quando abbiamo fatto la prova installazione app appena acceleri con l'applicazione accelera subito ragazzi questo è lo stesso colore blu no è grigio opaco magnetico esatto sembrava invece un grigio opaco magnetico spettacolo ragazzi usufruiamo della corte lombarda perché santo dio viene giù un acqua della madonna perché non poteva capitare domani per dire no oggi 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 bisogna lavorare esatto quindi anche tu c'è lo schermo grande giusto si è 12 pollici anche questo si più o meno lo mettono su quasi tutti ma si ma secondo me la spesa è la spesa giusta no perché anche retro camere altre robe pacchetto l pacchetto l e di notte non l'abbiamo mai vista tutta accesa ah si vuoi cambiare colore spettacolo che bello che è nero blu perché venendo da bergamo giustamente bravo nero blu atalanta arriva da proprio città di bergamo giusto quindi ragazzi noi abbiamo installato su un iphone praticamente poi vi facciamo vedere la questione pedal block che rimane non rimane colorato ma rimane nero ma è uguale adesso qui facciamo una mezza mandriacata andiamo a sinistra e subito a sinistra quanti chilometri su? pochissimi 887 ce l'ho da tre settimane la macchina 887 il ragazzo di ieri mi ha detto ma giari ma non è che devo fare un po' di strada qualche migliaia di chilometri no no infatti anche io ci ho pensato magari devo fare il rodaggio invece invece no allora passami il cellulare per piacere così oh già guardalo qua ragazzi ecco ma che bella allora c'è stato un aggiornamento ieri dell'app ed è hanno hanno migliorato la luminosità dei tasti adesso si vede bene che si vede benissimo un leggero coltello come si va accompagnato in avanti esatto e non ti ha scalato marcia quindi tu hai migliorato solo la sbloccata un po' di lino e siamo in comfort ah fantastico e siamo in comfort te le faccio provare in progressione così dopo tu probabilmente puoi spostarla qua in sport e facciamo la prova poi con la tua macchina in sport ora dopo mica che buono ma veramente migliora di tantissimo adesso noi ritorniamo indietro anche in partire infatti tutti si lamentano sulla questione un piccolo lag si ma è breve poi va però sale un sacco di giri ma non si dà quella spinta questo c'ha lavato questo c'ha lavato perché tanto eh così aspetta eh si sente proprio quando appena schiacci il pedale che molla che molla si si molla un po' così è ripreso così è sport ok adesso non posso andare adesso non possiamo andare glielo sto facendo provare accendi e spegni praticamente a 59 km orari poi dopo li facciamo provare anche eco e eco più no di qua eco più e di qua eco e vediamo come migliora il cambio DSG ovviamente non andiamo a toccare niente in centralina motore è solo un comando del pedale sulla valvola per palla ma migliorando quello in contemporanea migliora praticamente tutto il resto ovviamente perché questo è cambio automatico se fosse a un manuale migliora comunque ma la spostità è il cambio ecco questo è lo voglio intendere no perché magari fra intendono migliora anche il cambio manuale il cambio manuale rimane manuale poi commenti lascia stare lascia stare allora facciamo tutto il giro della ragazza a me te la faccio provare da partenza in sport ragazzi perché aggiorno è proprio preciso oggi è urco bisogna stare attento adesso adesso sono i primi i primi momenti questo qua dove deve andare io lo riprendo prima che ci tocca esatto ah sì sì va va devi anche dosare l'acceleratura perché sei troppo veloce sinistra 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 è anche bagnato esatto adesso prova a dare un po' ah sì sì siamo in sport e la macchina è in comfort ah infatti è un'altra roba è un'altra roba allora guarda rallentiamo un attimo perché tanto qua ragazzi siamo con i remi andiamo in giro adesso devo riprendere accelerare e stai spento no ma manca è come se mi tenessero con la corda hai capito che roba è incredibile tu quando lo provi e poi lo spingi ci mancava veramente fa così c'è su quei video e dici no ma non sarà così no cazzo è così è proprio così esatto esatto allora no è un'altra roba cioè fai come se schiacciare il tasto del nostri e puoi partire e stiamo in race ah no bellissimo adesso è molto sensibile e tu come dai gas sì 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 adesso ragazzi ovviamente non possiamo però è giusto per fargli vedere tutte le funzionalità adesso facciamo così metti la te in sport ok ah hai già cambiato sì sì così così ce l'hai già pronto questa è andata male questo è però oh un po' cane di sci ma va fantastica spento e si sente anche se sei in sport quando lo spegni si sente che ti tira un po' indietro sì sì lo sento facciamo così spegniamo andiamo dove gira questo camion se riusciamo a entrare facciamo passare perfetto grande noi siamo in sport e race ciao ma non sto neanche schiacciando è un problema è un problema è un problema certo te la faccio provare così girando a destra ok così siamo race e sport è il massimo ragazzi sulla formentor no che è 150 mi immagino davvero la 190 sì deve venire ma ragazzi spara dentro le marce che è una bella ma non sto schiacciando cioè quello è che bello che non schiaccio un videogioco è una playstation allora spegniamo tutto tu torna in comfort ok adesso noi siamo praticamente spenti e adesso io lo mettiamo in eco rilascio ok così siamo in eco e comunque va ti rimane più morbida meglio comunque di prima meglio dell'originale anzi te la metto anche in eco più guarda così è il massimo ok e te la lascio così così poi in appartenza da semaforo a destra e la provi da vedere che non è così rabbiosa è molto più molto più dolce però vedrai anche nel cambio marcia come dicevo prima a video spento te le spara dentro tutte perché se non sbaglio avevamo fatto un video con l'altro a 50 all'ora dentro nella via qua a destra ma non so che marcia li avevamo messo dentro cioè quarta quinta sì sì ragazzi i problemi con le start and stop non ce n'è ovviamente perché tanto non vai a influire sull'elettronica della macchina diciamolo mille volte garanzia neanche perché tu quando vai in assistenza lo spegni con questo tasto qua con off il tasto del telecomando della televisione dai per intenderci è fatto uguale sì 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 è identico è identico facilissimo andiamo destra eh no grazie sì sirve per la sprint no no è parte meglio parte meglio è dolce e ha già cambiato quattro marcia quattro qui cinque cinque marcia siamo in ecqua e sono a 50 all'ora sì sì fantastico mettiti qua destra sì sì qua 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 allora ragazzi anche il ragazzo deve andare a fare la spesa a Bergamo eh sì eh sì cosa avete lì l'aution cosa avete no tutto avete tutto S lunga tutti chiamiamo tutti chiamiamo tutti allora lui adesso ne ecco più va a fare la spesa la macchina si è spenta metti le moto e tira via lo start and stop così no ok perfetto siamo completamente fermi ragazzi macchina accesa anzi no ancora è spenta no è accesa è accesa si entra lo start and stop perché questo qua non è start and stop un'altra roba a me basta che rimani accesa guarda è accesa è perfetto era giusto per far vedere oh ragazzi lui cosa fa eccolo qui lui ovviamente è iphone tutto nero lui schiaccia ragazzi la macchina non va ferma ferma spegne la macchina spegne il cellulare se ne va chiude la macchina si fa i fatti suoi whatsapp google cazzi e mazzi tutto rientra apre la macchina mette in moto la macchina ok apre l'app sblocca e ritorna in ecco è quello là prima e va è la macchina ragazzi non c'è trucco non c'è inganno ragazzi venite a provare il pedo sprint perché veramente anche i più scettici adesso giovedì quello che viene giovedì a montarlo ti dico che lui è scettico cioè no no si ricrederà fidati ragazzo fidati sta arrivando anche la chiamata fidati che ti ricrederai ragazzi cupra formentor per l'ennesima volta sprintata esatto da bergamo torna a casa super allegra e contento super felice nonostante il tempo esatto ragazzi iscriviti al canale un pollice in su un like condividete c'è M3CarService sono Gerry tutti gli instagram tiktok facebook tutti i social disponibili possibili ragazzi alla prossima ciao grande grandissimo grazie ciao 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 ciao